Ed eccomi qua a Sestriere per farvi vedere l'ingresso della galleria utilizzata proprio durante la seconda guerra mondiale In effetti il fronte italiano era proprio lì perché da quella parte invece abbiamo la Francia, Clavier e poi anche Monginevro Siccome abbiamo perso la seconda guerra mondiale Monginevro è diventata Mongeneve e infatti adesso è in Francia Oggi non si può andare perché c'è il Covid, chiuso le frontiere